L'inglese si chiama Outings Friendly, ma in italiano praticamente non è altro che l'accoglienza, il sapere accogliere le persone difficili, diverse, fragili, che hanno comunque problemi di socialità, di comportamento e di comunicazione. Sono 17 le attività tra bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e di ottica, edicole, librerie e perfino un vivaio pronte a garantire la giusta accoglienza alle persone con autismo e alle loro famiglie. Obiettivo del progetto pilota che si chiama Outings Friendly, nato da un'idea dell'Associazione Autismo Arezzo Ollus e realizzato con il sostegno di ConfCommercio, è quello di agevolare i percorsi di autonomia delle persone con autismo, circa 2000 in tutta la provincia di Arezzo. Per farlo gli operatori coinvolti saranno formati in tre incontri sotto la guida di esperti. Solo per parlare della provincia di Arezzo si parla di un bambino, ogni anno arrivano circa 40 nuovi casi diagnosticati ufficialmente di autismo, per non parlare poi delle altre disabilità. Per cui ecco, dobbiamo fare i conti con questa nostra nuova immagine, il nostro nuovo modello di società. Occuparsi del bene delle famiglie, dei nostri clienti, dei nostri concittadini è una cosa che ci viene spontanea, l'abbiamo fatta sempre, è una cosa atavica dentro di noi, perché siamo lì nella strada al servizio veramente di chi ne ha bisogno. Alcuni figli li abbiamo pure cresciuti nei nostri negozi, quindi sono dei veri presidi sociali. È chiaro che con l'evoluzione della medicina, della tecnica, nei confronti dell'autismo dobbiamo essere preparati dai professionisti, quindi quello che viene fatto spontaneamente delle volte può essere anche non idoneo, non giusto e quindi questo protocollo e questo accordo che appunto ci commuove un po' a tutti, perché siamo tutti genitori, serve proprio per dare quella giusta professionalità, quel giusto approccio, perché se anche uno di noi può essere una speranza, un punto amico, un punto di riferimento per uno di questi bambini, avremmo sicuramente fatto una bella cosa e noi tutti qui siamo veramente molto felici.